Exoratics, oggi siamo qua per presentarvi uno degli ultimi arrivi. Si tratta di una bellissima Opel Astra prevista nella motorizzazione benzina 1.2 110 CV allestimento Business Elegance. Partendo dalla parte anteriore possiamo vedere, oltre tutta quanta la fanaleria, la presenza dei sensori parcheggio anteriori. Abbiamo la presenza dei cerchi in lega da 16 montato su pneumatico invernale. Questa autovettura è prevista nella colorazione Nautic Blue, autovettura aziendale immatricolata April 2021 con solamente 37.000 km, lunga 4,37 km, alta 1,49 km e larga 1,81 km. Passando invece nel lato posteriore possiamo vedere la presenza dei sensori parcheggio posteriori. Invece all'interno dell'abitacolo e bagagliaio possiamo vedere la capienza di 370 litri abbattibili fino a 1.210. Passando all'interno possiamo vedere i sedili che sono in tessuto con le rifiniture parziali in pelle e la predisposizione per le attaccature Isofix nei lati quelli esterni. E abbiamo anche la presenza dei vetri elettrici sia anteriori che posteriori. Passando nel lato anteriore possiamo vedere il volante completamente in pelle con tutti i comandi radio e bluetooth, il riconoscimento vocale e l'imitatore cruise control e sensori luci e sensori pioggia. Il sistema di climatizzatore automatico e lo schermo touch per il sistema di collegamento MirrorLink Android Auto e Bluetooth. Ed essendo una motorizzazione 110 CV è un rapporto 6 marci più retro. Questa autoventura è già superata, 5 punti di controllo dei nostri automotori expert è disponibile online sul nostro sito ratix.com. Ciao! 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 Grazie.